sonia bruganelli opinionista di ballando con le stelle ha fatto sapere tramite un video su instagram di essere stanca e demotivata dopo aver affrontato il quinto spareggio la bruganelli si trova a un bivio continuare o mollare definitivamente il programma la sua decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni la bruganelli si è sfogata sui social esprimendo la sua stanchezza fisica e mentale ha sottolineato come la leggerezza con cui affrontava la trasmissione sia ormai svanita a causa del livello alto dei concorrenti e delle polemiche costanti la mancanza di passione per il ballo e l'assenza di riconoscimento per i suoi sforzi l'hanno portata a considerare seriamente l'ipotesi di abbandonare il programma la sua amarezza è palpabile nel video in cui ha espresso il suo profusi la bruganelli ha sottolineato che il suo interesse per il ballo non è mai stato riconosciuto e che viene invitata a parlare di altro anziché della sua esperienza nella trasmissione infine la bruganelli ha chiesto ai suoi fan di sostenerla e ha lasciato intendere che la sua decisione finale verrà comunicata presto se dovesse decidere di abbandonare ballando con le stelle sarebbe un gesto clamoroso che potrebbe cambiare il corso del programma resta quindi dovrebbe sapere quale sarà il bruganelli nel talent grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti